Le eccellenze sono rappresentate appunto dalle malattie glomerulari, in particolare le cosiddette nefriti, per le quali sicuramente abbiamo una delle più ampie casistiche nazionali, per le quali facciamo biopsie, diagnosi istologiche, immunosteochimiche e anche genetiche. Sicuramente poi c'è la dialisi, che sapete è il trattamento che si applica ai bambini e anche agli adulti quando i reni non funzionano, per le quali adottiamo anche le tecniche in assoluto le più all'avanguardia come l'emofiltrazione, la plasmaferisi ed altre ancora. Infine noi appunto seguiamo un numero molto consistente di bambini trapiantati di rene per i quali, che fino a questo momento vengono trapiantati in altri centri italiani come Roma, Genova, ma per i quali stiamo lavorando per allestire il centro di trapianti qui a Napoli che ci auguriamo che in un futuro abbastanza breve, anche un anno probabilmente, possa essere attivo.